Lo scrittore, poeta e regista, professor Tregor Russo, in questi giorni si trova a Mistretta per visitare il centro nebredeo e soprattutto continuare la sua ricerca e scoperta di tutti i borghi siciliani e la loro millenaria storia. La mia continua ricerca e soprattutto amore e passione che ho per la Sicilia mi spinge sempre a dare a conoscere nuovi luoghi. Sono qui a Mistretta perché comunque sia mi piace l'idea di conoscere un borgo che ha la bellezza ancora visibile in quello che riguarda il centro storico ed è un posto meraviglioso che invito tutte a venire a visitare perché si trova ne ben mezzo in una conca dove si ha la possibilità di vivere il contesto del paradiso. Mistretta è uno di quei borghi medievali che rappresenta quel contesto dell'architettura che nel corso dei secoli man mano che si accavallavano tutte le serie di manifatture e anche di stili qui ancora nel centro storico si possono vedere. Tregor Russo ha pubblicato il suo quarto libro, Sicilia, l'incanto dell'estasi e Popea nel regno degli dei in cui racconta una Sicilia diversa, quella fatta di bellezza, storia, miti e anche di centri sconosciuti ma che regalano arte, cultura e bellezza di ogni tipo. Un vero e proprio grand tour durato due anni con la visita di più di 50 comuni. 2800 anni di storia e andando indietro nella pre-storia, la Sicilia è stata veramente il crucciolo e la perla nei Mediterranei, una crocevia di popolazioni che hanno riscontrato e hanno scoperto in questa terra meravigliosa un posto dove venire a vivere, portare avanti la loro storia, la loro ingegneria, matematica, scienza e quant'altro partendo dai Fenici e andando avanti comunque nei secoli e questa è una cosa molto importante dove è stata messa in auge all'interno del mio quarto libro per l'appunto dove ho parlato di tantissimi aspetti per far conoscere chiunque ovviamente avrà il piacere la Sicilia sotto un occhio ovviamente artistico, culturale, storico, parlando di tantissime cose soprattutto con le foto che vanno a dare la possibilità a chi non è siciliano e che vive fuori avranno i modi di poter conoscere la Sicilia sotto un aspetto meraviglioso, bello. Il professore Russo ha anche realizzato un cortometraggio che si rifà al suo libro e che ha sempre lo scopo di fare conoscere la propria terra. Per mettere in risalto tutto quello che ho parlato nel libro, quindi la bellezza, tutto quello che è l'opulenza racchiuso nei centri storici che poi si vanno ad ammagamare con la bellezza della natura.